Il nido scuola di infanzia Pifferaio Magico è un servizio gestione diretta del comune di Parma ed è ubicato nel quartiere San Lazzaro in via passo della Cisa 23A. Il nido scuola accoglie bambini di età compresa tra i 4 mesi e i 6 anni, suddivisi in 4 sezioni. La sezione piccolissimi composta da 15 bambini dai 4 mesi a un anno, la sezione piccoli con 19 bambini da 1 a 2 anni, la sezione grandi con 22 bambini dai 2 ai 3 anni e la sezione sperimentale 06 composta da 25 bambini dai 18 mesi ai 6 anni. La sezione sperimentale 06 progetta e costruisce percorsi educativi rispettando gli interessi e le competenze individuali dei bambini di diversa età, considerando la crescita un'esperienza continuativa che attraversa ogni momento di cura quanto le proposte di apprendimento. In ogni sezione sono presenti 3 educatrici e un'operatrice, mentre nella sezione 06 due educatrici, un'insegnante di scuola di infanzia e un'operatrice. Il personale educatore ed insegnante è accompagnato dal coordinatore pedagogico che segue e collabora nel percorso di formazione, nelle diverse forme di partecipazione delle famiglie e nel raccordo con l'istituzione comunale e le diverse realtà cittadine. L'orario di frequenza del servizio va dalle 7.30 alle 16. È possibile richiedere l'orario prolungato fino alle ore 18 per esigenze lavorative delle famiglie. Presto il pifferaio magico è presente la cucina interna che prepara quotidianamente il pranzo seguendo un menu bilanciato e biologico. Per la sezione piccolissimi è previsto un menu personalizzato in base alle esigenze del bambino fino all'anno di età. Durante la giornata si alterano momenti di proposte educative strutturate progettate dal gruppo di lavoro e momenti di gioco libero e spontaneo. Le routines, dal momento dell'accoglienza in poi, sono accuratamente progettate e pensate per garantire ai bambini il benessere fisico, emotivo e cognitivo indispensabili perché possano vivere un'esperienza di crescita ed educazione sana ed orientata all'autonomia, nel pieno rispetto dei loro tempi e delle individualità. Ogni sezione propone con spazi ed arredi adeguati all'età una ricca varietà di angoli educativi e materiali didattici per consentire ai bambini di esplorare, conoscere e relazionarsi in sicurezza. Il pizzerraio magico è circondato da un ampio giardino al quale si accede direttamente da ogni sezione. Il giardino viene utilizzato tutto l'anno offrendo opportunità di scoperte naturalistiche, occasioni preziose per sperimentare diversi materiali offerti dalla natura. È inoltre presente un atelier, spazio che si presta ad attività di manipolazione di diversi materiali, attività pittoriche ma anche di carattere scientifico come ad esempio il tavolo luminoso. Nel video potete notare alcuni momenti della giornata come l'accoglienza, il pranzo e alcune proposte di gioco.